Salve a tutti, sono Michela di Cantina Fiorino, ci troviamo ad Abbadia di Montepulciano, siamo una piccola realtà nata nel 2013, 4 ettari di vigna, quindi puntiamo esclusivamente alla qualità, è un prodotto che si è eccellente in bottiglia, produciamo anche noi vino nobile con un ettaro soltanto di Sangiovese, infatti produciamo vino nobile di Montepulciano Viola, che è un Sangiovese in purezza, per il resto vitigni internazionali, conduzione familiare e tanta passione.